Partirà tra ottobre e novembre la ripiantumazione della pineta della Versiliana. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente di Pietrasanta, Simone Tartarini, a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Maurizio Foliero. Querce, Lecci e Frassini saranno forniti gratuitamente proprio dal Corpo Militare Statale, direttamente dai vivai forestali. Per il ripristino del parco abbiamo già preso contatti con il Corpo Forestale dello Stato, che attraverso un progetto che stiamo ridicendo ci donerà tutta una serie di piante adatte alla ripiantumazione della Versiliana, cosa che intendiamo portare a termine come progetto entro la fine dell'anno. Un primo passo dunque verso la rinascita del parco della Versiliana, andato parzialmente distrutto nella tempesta di vento del 5 marzo. Lo scenario che si presenta oggi, in piena estate, ai turisti è desolante. Una distesa di sabbia soleggiata dove alcune piante stanno spuntando spontaneamente. Per mettere un po' di ordine sono arrivati ieri mattina i boy scout del gruppo peschiera del Garda 1 di Verona, che volontariamente hanno posizionato i tutori agli alberi appennarinati, per proteggerli e per segnalarli ai fruitori del parco. Lo scenario è stato abbastanza preoccupante, perché non si pensava che comunque la devastazione avesse colpito così in profondità. Fortunatamente è stata solo a strisce, a blocchi, quella che è stata la parte più danneggiata, per cui effettivamente se con attenzione ci si dedica un po' di tempo, sarà possibile mettere qualche toppa in punto alle cicatrici che sono rimaste.